Vuoi festeggiare il tuo compleanno, il tuo anniversario, il tuo matrimonio, le tue feste in genere? Contatta Radiomia Service che con il suo staff mette a vostra disposizione con la massima professionalità i suoi DJ e i suoi artisti. Cosa aspetti? Contatta subito lo 080 394 70 20 o 334 38 78 796 Radiomia Service. Aspetta anche te!